Come si dice ai cittadini che cosa? I capi saldi della realtà, della nostra socialità. Lo Stato spende il 60% della spesa e da qui abbiamo già tolto gli interessi del debito pubblico e abbiamo tolto le pensioni. Le regioni spendono con la sanità il 25% della spesa pubblica nazionale. Parteciperanno ai tagli nelle tre manovre di Tremonti intorno al 57%. Vuol dire che quello che i cittadini possono fare prendendo un autobus, un treno, facendosi curare o chiedendo un aiuto al proprio comune o i libri scolastici, domani probabilmente non lo potranno più fare o lo potranno fare in maniera assolutamente minima. Abbiamo chiesto al governo di assumersi la sua responsabilità e dire allora quando toglie i soldi anche quali sono i servizi che il governo vuole togliere. Se questo paese ha un problema è la tenuta fiscale e il nostro sistema è un sistema drogato. Il fatto che il 15% dei libri dichiari 30 mila euro lordi e più all'anno dà l'indicazione del fatto che moltissime fasce di popolazione, moltissime categorie non pagano le tasse che dovrebbero. Temo che ci sia ancora una non chiarezza sui numeri. Abbiamo chiesto al governo come regioni di dirci quali sono i risparmi sulle manovre istituzionali dei piccoli comuni. Non c'è scritto che cosa si risparmia e quindi l'impressione è che si faccia una politica ancora una volta di annuncio ma che la spesa cosiddetta strutturale, quella che incide seriamente sul bilancio, poi non sia colpita. Grazie. 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 Grazie.